ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati oggi sono qui a presentarvi una nuova replica della nuova linea di boys esattamente l'11 31 replica fantastico veramente fantastico che mi ha lasciato a bocca aperta ma in particolare questo è veramente un gioiellino con un peso di poco più di 2 kg è veramente molto compatto con possibilità di regolazione in tre posizioni del calcio se dobbiamo andare sotto la batteria c'è un altro pulsante si preme si sfila il calcio in maniera molto semplice si svita il tappo e si va a inserire la nostra batteria ecco unico neo in questo caso appunto siamo un po limitati per la batteria e in questo in questo sistema abbiamo possiamo inserirci una 74 per 1200 non più grossa poi esistono in commercio tubi maggiorati dove poi naturalmente ci limiteranno l'utilizzo della chiusura del nostro calcio rimarrà in posizione più estesa ma poco male anche perché l'utilizzo il suo utilizzo è quello abbiamo un il top up rotativo che vediamo già anche negli altri boys esce con una potenza da 0 95 arrivano a 0 provato questo addirittura arriva a 098 con un tiro vi dico veramente eccezionale è una rettività colpo singolo fantastica un diciamo così una replica che costo qualità prezzo veramente veramente ottimale oltretutto anche materiale full metal quindi c'è poco più di due chili totalmente full metal cos'altro dire una cosa molto molto importante che questa piacerà sicuramente ai customizzatori una volta tolto il nostro calcio svitato il nostro tappo della batteria vanno da batteria in fondo abbiamo una vita è tolto la via la vita e dietro la ghiera abbiamo l'estrazione del guidamolla rapido quindi nel caso che si dovranno andare a fare eventuali correzioni per il jaule quant'altro non ci sarà più bisogno di smontare tutto il body ma come ci sono anche in altre repliche ultimamente si può andare estrarre il guidamolla direttamente così da fucile montato una cosa veramente fantastica e customizzatori sanno di che cosa sto parlando bene ragazzi altre cose per questa replica vi dico solo acquistatela e vedrete di che cosa vi sto parlando bene ci vediamo la prossima ciao ciao